Bentornati ragazzi sul canale e continuiamo il gameplay di Assassin's Creed Valhalla Ok quindi dobbiamo andare a Jorvik nel Eurvishire Ok Ok ...della miele sicuramente ad attenderci. ...della miele. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Guidami. Grazie a tutti. 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 La casa è stata saccheggiata. Questo corpo non è né Yor né Liuffina. Pergamene sparse. Il ladro stava cercando qualcosa. C'è stata una lotta qui, che poi è proseguita all'esterno. Sangue, ma niente corpi. Dove sono andati? Mi conosci? Mi conosci? Davvero? Spunti fuori così, proprio ora. Quelli volevano uccidermi. Se tu dubiti di me sta pronta a uccidermi, perché io di certo non ti colpirò. Mi dispiace, mi dispiace, chi erano quelli? Cercavano questa. No, possiamo passare oltre. No, possiamo passare oltre. Andiamo. Ma come faccio a camminare? Andiamo. 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 E' un piacere vederti vecchio amico. Tu... E' bello sapere che state bene io. Cosa ti porta qui? Sono qui per avvertirti guerriero. Una piaga infetta alla città. Tre personaggi, corrotti e letali. Dobbiamo lavorare in... Se posso aiutarti, lo farò. Andateci via. Volevano uccidermi Yorrah. Ha... Hanno incaricato la mano russa di ucciderla e inonderanno le strade di sangue, ma hanno fallito. Fanno parte di un gruppo chiamato l'Ordine degli Antichi Ascoltalo, Yor La corruzione ha già intaccato Yorvik Non sarà in grado di darci al... Non voglio i suoi consigli Ma dovresti presentarmi al re I pitti stanno vincendo la guerra Dobbiamo in... Capisco, caro Farabit Basta Miglioro Non mi ero reso conto che avessimo con... Accogli così tutti gli stranieri che varcano la tua porta O solo quelli che vogliono aiutarti Perdonami, Lord Lui è... Eivor, del Klandek Hai un problema, Yorvik? Sì Lo sto guardando Um, Liufvina è stata assalita dalla mano rossa Hanno saccheggiato e devastato la sua casa Ah, ancora quei Farabutti? E a te perché interessa tanto? No, è il Trangre di Jarl Sigurd Si è insediato nel vecchio campo sul Ninn Da quanto ne so Io sono Farabit Capoguerra di Halfdan Ragnar Ho già visto gruppi ribelli come questi Se li lascerete fare Vi porteranno via l'intera Yorvik Non è certo ciò che volete Né voi né Halfdan Oggi cosa vuole? Ditemi ciò che sapete della mano rossa E io li spazzerò via dalla città Hanno messo le mani sulle ricchezze di molti cittadini E stanno diventando più... Ma preferirei... Non è qualcosa che possiamo ignorare Faccio che devi Jor Trova i vo- Ma è come ho detto Noi trovali Dovrei trovare altro Vieni Torniamo Non so dire se sia andata proprio come speravo È andata meglio del previsto Rixige non mi ostacolerà E tutti concordano La mano rossa va eliminata Non farne parola con anima viva Non possiamo piedarci di nessuno lì fuori di noi Mi scuserai per essermene andata Le gare a chi ce l'ha più lungo mi stancano Amore mio... No, tu hai tutti i tuoi incarichi Per fortuna non ti hanno ferita Quando afferri la... Le vecchie abitudini Di ora è diverso La politica Sono felice... Forse Che cosa hai lì? Testi cristiani In questa città sarà anche nostra ora Ma i cristiani hanno il diritto di pregare chi... Ma la mano rossa non è d'accordo Tra questo e tutta l'agitazione al porto... Cosa se ne fa la mano rossa di testi cristiani? È una bella domanda Comunque sia saranno disposti Sono arrivati a... Brucia Qual è la più grande raccolta dei libri? È l'archivio Ma non sono stati ancora così Proverò a cercare la... Ci andrò qua? No Tu mi presta attenzione acqua Mangerei il cuore Lo so amica mia Oh 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 Vediamo Bruciare la fiamma Eibor va all'archivio in cerca di risposte sui furti di testi cristiani da parte della mano rossa. Cerca dell'archivio di Jorvik. L'archivio. Qui è dove Audun ammucchia le carte del consiglio. Lui non c'è. Devo guardarmi in giro. Grazie, Audun. Queste le porterò con me. Ma certo. Sono qui per chiedere dei testi cristiani. Liuf Vina mi ha detto che la mano rossa li sta rubando. Sì, e li distrugge. Temo che la Badessa sia offerta di portare i testi in un luogo sicuro. Voi mi lusingate, Lord. Badessa Ingeborg. Posso aiutarti? Dunque custodisci i testi al sicuro. Perdonami, Eibor, ma sei uno straniero e non comprendo il tuo interesse. Perciò sono resti a fidarmi di te. I testi sono più che al sicuro. E farò il possibile per proteggerli dalla mano rossa. Ammiro il tuo coraggio. Ma finché la mano rossa non verrà sconfitta, i possessori dei testi rimarranno in pericolo. Sembra che la mano rossa sappia... sapete qualcosa. Questo è chiaro. Eh, la Badessa ha i suoi sospetti. Per quanto mi rattristi ammetterlo, temo che i sacerdoti tramino qualcosa. Li vito mormorare e il vescovo si aggira furtivo intorno alla cattedrale. Meglio fare visita a questi uo... La canonica è sulla via per la cattedrale. Andrò a cercare il vescovo. Dei documenti ufficiali che recano un sigillo. Questo rumore... Qualcosa ha disposto? Girlande... Legna... Viveri... Vino... Una lista di costosi ordini per una festa. Esplora la canonica. ... 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 No, sta lontano da me! Che odore? Chi ti credi di essere per introdurti qui con la... Dicono che voi preti vi nascondiate da quando i testi cristiani ha... Della mano rossa, no? Sto cercando il vescovo. Dov'è? Nelle sue stanze. Ha detto che sarebbe tornato dopo essersi occupato di... Indicami dov'è. Che... Ora. Signore, perdonami. Avrei dovuto sdarmene con gli altri. Ok, abbiamo un'alcanomica, allora. Che odore di bruciato, questo? Quanto pare loro sono un po' sconso. Quindi... Mostrami ciò che ci attende. Oh no, che bello. Quanto pare loro sono un po' sconso. Oh no, che bello. Oh no. Grazie a tutti. E' bloccata. Molti testi cristiani. L'abbadessa aveva ragione a sospettare del vescovo. Sangue, c'è stata una lotta qui. Dio del cielo! Il vescovo! Non posso guardare! Buon Dio! Una lettera bruciata sotto il corpo. Ha cercato di nasconderla prima di morire. Ah, che fettore! Sembra una merda di sordra. Una lettera bruciacchiata tra i fratelli della luce. Con grande dispiacere vi annuncio che non adempio più ai duveri della cattedrale. I testi conservati di sono stati compromessi. E non posso più tollerare i metodi dell'abbadessa. Che Dio mi perdoni per aver profanato i testi salvi. Qualcuno sapeva che il vescovo era combattuto e l'ha ucciso per non farlo parlare. È una confessione. Il vescovo ha avuto un ruolo nel distruggere i testi contro la sua volontà. Il resto della lettera è bruciato. Ma nomina la cattedrale e l'abbadessa. Forse è lì che ha nascosto i libri da proteggere. Sono loro! La mano rossa! Che Dio mi aiuti! Meglio non... La mano rossa. Devo andare. La mano rossa è il pagano. Bruceremo quel peccatore come gli altri. Una! Togliti dai piedi, pagano! Sfiniremo il nostro lavoro. Non ci fermerai! Attenzi ai suoi trucchi. Occhi aperti. Attenzi. 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 Attenzi alle sue piedi. Una volta. Attenzi alle sue piedi. Aiutami. Sarai i miei occhi. Versaglio mobile! Il nemico ha mandato la mano rossa a cercarmi. Sono vicino. Devo andare alla cattedrale. Il nemico ha mandato la mano rossa a cercarmi. Sono vicino. Devo andare alla cattedrale. La badessa sa più di quanto non... Si può sapere che cosa prendete di fare? Questo non è posto per te, prete! Vattene! Aspe mia! Fermatevi subito! Qualcosa di turma, padre. Badessa! Perché l'ho ordinato io. Ah! Hai visto le cose... Le carte che bruciano davanti a te sono un cumulo di bugie. Finché esisteranno, non sarai in grado... Bugie? Badessa, ma che via su siete ancora in tempo per pentirvi. Dio vi perdonerà. Sapete che lo farà. La tua mente è stata avvelenata. Ma non temere. Noi abbiamo l'antidoto. Daremo un nuovo esempio. Un modello... Voi... Non lo dirai a nessuno. Nessuno potrà sentirvi guidare. Se non sopporti di vederli bruciare, Brucerai con loro. Voglio che distruggiate tutto. Ogni testo. Occi. La badessa e la fiamma. Ucciderà chiunque le ostacoli. Devo mettermi tra me e la sua prossima vittima. Buonissimo. Lei che è una madre. Guarda un po' chi è. Dove è il suo collaboratore. Sono tutti a Jorvik. Un cifra fiamma. S e l'occhi. S e l'occhi. Un cifra fiamma. Uno, io la barche. S e l'occhi. Una dobbiamo. S e l'occhi. S e l'occhi. S e l'occhi. Un cifra fiamma. Un cifra fiamma. S e l'occhi. Grazie a tutti 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 Ehi No, no, no. 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 Lago potrebbe puggerti per molto meno. Lago. Lago potrebbe puggerti per molto meno. 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 La puntura di un ago. Sono sulla pista giusta. Dunque, il mastro sequestra i carichi e usa i mercanti per rivenderli al mercato. Quelli coinvolti portano dei trappi neri. Attirerò la loro attenzione mostrando in giro un po' di argento al mercato. Il mercato di Coppergate. mostrerò dell'argento ai mercato ai mercato ai mercato ai mercato. Mostrerò dell'argento ai mercato ai mercati. e non Una chiave, per dove? Come al solito, lo stile qua non esiste. Passeremo a me, ma se qualcuno di quei pezzetti si mette a fare storie, tu ricordagli pure... Ho sentito che in questo mercato gira una gran quantità d'argento, ma ho qualcosa che può interessarti. Dovresti parlare... Il mastro di porto. Scusa, tu chi sei? Uno non ti riconosco, e comunque ho già parlato troppo. Ti ho sentito parlare di argento. Ho una grossa somma da s... Oh! Vuoi dire lago? Hai qualcosa che gli interessa. Se vuoi fare uno scambio, vai... Ci andrò. E tu fa attenzione, ragazzi. Che, io? Ispeziona l'aria, Sinin. Noi. Qu'agra, fin le esate malcomartano. Ah! C'è un minerole, c'è un minerole Cerca Ago Il tovo vicino a una statua E' il mercato Carri vuoti E' un drappo nero come indicazione Il posto è questo Ti nascondi tra i toby Ago Tipico I soliti unicoli Suterrani Deve esserci un'altra entrata Sì, sì, sicuramente Questo posto è ben sorvegliato Rumore di metallo Un'officina nelle fogne Qual è il ruolo del lago Un dono l'argento per cugnare lingotti e monete Che cosa vogliono farne? Un'altra 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 Devi morire! Eccolo qua, due. Non sono sorpreso di vederti strisciare qua giù. Tu! Questo non è il tuo posto! Qui al porto è tutto in regola. E poi ti ritrovo qui, a nuotare nell'argento guadagnato. Sei tu un lago, o sei un'altra delle sue pedine? Hai capito male. Il tessuto del mondo è consunto, lacerato, strappato. Lo vedi? Qualcuno deve assumersi il compito di ricucirlo. Qualcuno è un poeta, fai schifo. Ma almeno mi... Sì, beh, tutti abbiamo un punto debole. Credi che i tuoi uomini mi fermeranno? Io non li... Fate presto! Raggiungetemi al mercato quando avrete finito. Hai già aperto! Al mio segnale! Mori, mori, mori! No! Oh, come on, come on. Quel maledetto ce l'avevo quasi in pugno, chiuderò questa storia al mercato di Commergate. Affronta l'acqua al mercato di Commergate. È bello godersi quest'arte. Ti prego, Grigori, non credevo ti portasse... Sshh, ti capisco. Con tutto l'argento che ti ho dato, non mi arrivò, mio Dio. Mercanti di Jorvik, vi ho promesso... Vi ricordate? Le altre. Le... E questa sia... Da bambino, pensavo che la neve fosse stremato dalla fame. Guardavo il... Ma non fu Dio a salvarmi. Fu per la prima volta. Qualcuno tese... Fu allora che feci un voto. Promisi di non voltare mai le spalle a chi mi aveva salvato. E te hai servito lo scrigno, sapendo bene di cosa fosse parte. L'ordine ci aveva fatti incontrare. Ero in debito. E mi sono sdebitato salvando questa città dall'autodistruzione. Quel debito l'ha motivato. Ha pervaso il suo hooker. L'ha guidato. E non l'ha più abbandonato. Ma tu non hai mostrato la stessa compassione. È vero. Forse mi merito questa morte. Non per dove andrai. Non ci saranno lacrime a te. Fuori con la difesa! È vero. Lo scrigno. Lo scrigno. Grazie a tutti. 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 Tutto il necessario per la festa di Yule. È la scrittura di Audun. Ha cancellato gli acquisti fatti. Dove avrà trovato tanti fondi da spendere? Audun è un uomo dai molti agganci. Un sigillo di cera. Amore a fare un'altra, un'altra fuo di cui... va a fare un'altra... Un'altra... È la stanza a sinistra. È dove si riuniscono i consiglieri. Grazie a tutti. Sotto questo scrittoio, ho l'impressione... Il pavimento è graffiato. L'ho scritto... Perché spostarlo? Un'entrata segreta. Sotto questo scrittoio, ho l'impressione che sia stato spostato. È pieno di argento. Qui c'era del vino. L'hanno portato via in fretta. Qualcuno ha tolto del vino da qui. Credo sia il vino. Così sembra. Non è lui. Non il mio Yor. Non lo farebbe mai. Lui... Rimani concentrata. Ora dobbiamo raggiungere la festa... Hai ragione. La festa è la festa... La festa è la festa... Grazie. Ah, va bene. E' un altro giro. Tu vedi il vino? Allora siamo in tempo. Voglio che tu vada a cercare il vino. Io parlerò con i membri del consiglio. Anche fosse Jor. Anche fosse Jor. Se è lui lo scriverà, lui fa vino. Lo farò. E' sospettato da un parte del consiglio. Ora devo parlare con i consiglieri. Dominerò il vino e osserverò la loro reazione. Forse così arriverò allo scrigno. Rixike, ho brutte notizie. Ovviamente, cosa potevo aspettarmi? Lo farò portare via dai miei uomini. Dovrebbe esserci altro vino nel vino. Anderò un vino a recuperarli. E' tutto. Goditi la festa. Sì, ci provo. Dominerò il vino e osserverò la loro reazione. Forse così arriverò allo scrigno. Jor, chi era? Eccoti qui. Non devi. Sappiamo che lo scrigno è qui. È qualcuno del consiglio. Ne sei certo? Sì. E quando spino ad allora, devo indagare senza destare sospetti. Mi serve il tuo aiuto. Ma certo. Cosa vuoi che faccia? Bevi e fingi di ubriacarti. Mi serve un diversivo. Non devono fare caso a me. Il vino arriverà presto. Bevi tre coppe e poi fai la tua recita. Non posso rendermi ridicolo. David, fallo. E basta. Una festa splendida! Sì, è proprio superato. Puoi dirlo? Ah, Odun. Ah, ha, ha, ha. Sì, è proprio vero. Felice, ancora non rende l'idea. Presto la brindiamo in tuo... Oh, no, 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 non posso accettare. Ti ringrazio. Il vino è per la gente di Jorvik. Ma, ma quando arriverà? Prego, servi di bu. Bello, è vero. Il sovrintendente di Jorvik ha un grande futuro. Perché sì. L'argento sarà pronto nei prossimi giorni. Grazie, l'unica. Bene, bene. Eivor, hai scoperto chi è lo scrigno? Sì, credo di sì. Ogni mem... Di chi sospetti? Come si chiama? Audun è il solo ad aver sempre premuto per la festa. La organidea aiutava la vadesa Ingeborg a raccogli... Sì. Sì, era... Tra i consiglieri, solo lui sapeva che il vino non è... Per... Fratelli! Sora! Prima di iniziare, è qui con me potete vedere i più il... Sono lieto di poter dire che... Il vino lo scrigno... Per loro è tardi. Non perdiamo la notte... Unitevi dunque a me, ne... Merda! E ora... Mentre siete a... Nel mondo nascerà un nuovo ordine! Purtroppo nessuno di voi vivrà... Porta i consiglieri al sicuro... Tieni gli occhi aperti... Dicisione più rapida della storia Non le potrebbe mai chiamarli onorevoli, sono privilegiati, sedentari, compiacenti, un completo spreco di risorse Le mie ricchezze hanno rinforzato il nostro potere, ho contribuito al futuro di un grande e glorioso ordine Per questi titoli faccio fatica a stare dietro agli usaggi, non mi fa piacere che mi stai guardando In qualche modo, mi piacere comunque Tu sei? Mi piace la serie di me, e ancora altrettanti soli Nove notti ho penzolato dall'albero, sacrificandomi a me stesso, così il saggio circa saggezza Innumerevole... Io vivo in un solo uomo, tu vivi nel nulla Allora... Allora... Silin, guidami Yor... Liuffina... Dove sono andati? Guidami! Ehi, boss! Sono qui! Ehi, boss! State tutti bene? Stiamo bene Faravide e i suoi hanno scortato Re Rixige alla casa del re Sono in salvo Ci vediamo là Ehi, новa Ci vediamo là Nerva Ci vediamo là Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ma non potevo rivelarlo a nessuno. Sono come vermi in una mila guasta. Ma tu hai impedito che a caccia la minaccia è sventata. Hai anche la mia gratitudine. Vorrei non... Suona proprio bene. È un onore, Lord. Pertanto, è mio compito informarvi che molto dell'argento incriminato si trova sotto la città. Esatto. L'argento... Come suggerisci di utilizzarlo? Molti onesti mercanti sono... Onore alla festa di Yuleren. Un saggio consiglio. E va bene. Vieni, Faradid. Aiuti. Abbiamo un detto. E noi siamo ancora vivi. Potrei sempre lasciarmi sfuggire qualche lamentela sul re. Anche voi. Se fossimo stati uniti forse... C'è sempre te. No. La Norvegia è il mio passato. Aspetta. Ah. Alleanza. Se mai avrei bisogno... Un'ultima cosa. Jor, credo che dovrò rinunciare alla sorpresa. Ho commissionato a un argentiere un pegno d'amore per Liuffina. Brigante. Farò meglio a... Al nostro... In questa vita. Se li passi da Jorvik, unisciti a noi per una mila. Aspetta. Il Tiffi World. Bene. Credo sia tempo di tornare da Randvi. Le... Prima di tornare da Randvi... Alla, questo qui. Va per Galina. Si trova... In cima alla collina più alta di tutto Glom. C'è strisciare. Il più più grande è la città di tutto. Andiamo a scovare questo. E' alta collina. Ma che sia questa? Tanna dell'Avo. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. iderano... Rara... 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 Quattro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senza Dio e senza cervello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non devo essere visto in quest'area. Tu non mi scappi. Grazie a tutti. Ecco qua. Ambert. Porto di blue chest. Porto di blue chest. Non mi scappi. Non mi scappi. Non mi scappi. Tu dà la tua forza in un attacco inarressabile. Ti otterrai prenduto più l'attacco sarà potente. Non mi scappi. 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 a un'aradice un'occe storia di un templare dovrebbe essere liceo a un porto, secondo me l'averebondito Sì, i miei occhi. Chi è al porto? Sì, i miei occhi. Sì, i miei occhi. I miei occhi. Sì, 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 i miei occhi. I miei occhi. Sì, i miei occhi. I miei occhi. Sì, i miei occhi. Sì, i miei occhi. Sì, i miei occhi. Sì, i miei occhi. I miei occhi. Sì, i miei occhi. 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 Grazie. 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 Offa diceva a tutti di essere cristiana. Non lo era. Avete continuato la sua tradizione? Senza. Devi aver visto più di cento estati, vecchio. L'ultima di questa sfilza. La scure. Non c'era una sfida. Vai da Chester. Voi. Torniamo intanto a casa. La져f. La cappa. Assicco. Ciao. Cosa. Grazie. Sei stato efficiente. Ne dubbi. Ho notizie allarmanti. Una lettera da Alfredo di Lincoln. Sembra che il nuovo aldermanno, Herifrit, li abbia traditi. Non ha per... Ah. Dimmi altro del Lincolnshire. Ha tradito la sua gente. Non solo. Ketam ha scoperto a chi ha giurato fideltà. All'ordine degli antichi. Dei. E io l'ho permesso, Randvi. Ho votato per eleggerlo aldermanno. Già. Ah. E ora Alfgar chiede che tu faccia ritorno per risolvere il problema che hai creato. E ad Anicaster con la sua milizia. Ci andrai? Ah. Perciò era lui il traditore. Era... Devo assistere a Alfgar e fare ciò che è giusto. Attento, Herifrit può rivelarci pericoloso. Noi lo abbiamo detto, Erifrit può rivelarci pericoloso. Noi lo abbiamo detto, Erifrit può rivelarci pericoloso. Pazzesco. Noi. 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 Vabbè ragazzi, direi che facciamo questa missione qui, poi ci lasciamo. Allora, vediamo un po' intanto il nome, grazie. Sei ansioso di incontrarlo, ti chiedi... Andrò subito. Con prudenza, Eivor. Ok, prima cerchiamo di risolvere questa missione. Afton è venuto a superare delle imprese di Eivor a Jornik, ne lo convoca per parlarne. Eh ma, c'è cancellato l'altra missione. Vorrei vedere. Dimmi altro del Lincolnshire. Ha tradito. Dei. Giaci. Devo assi. Attento. Ubaragnarsson è qui, dice di avere un conto in sospeso con te. Eivor, è così. Un lungo cammino attraverso colline e campi. Di cosa? Per aver concesso a mio fratello la sua ricompensa, nonostante tutti i danni arrecati a te e ai tuoi compagni. Non ho saputo tenerlo a bada in questa vita. Tuo fratello era oppresso da un'oscurità che lui... È così. E in ringraziamento ti ho portato un dono. Grazie. Fanne buon uso, morso di lù. Cosa? Dovrei chiedere. Dovrei chiedere a Hitamma dei prossimi bersagli. Voi! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Forse c'è un passaggio... ...sò che mi ha giocato? All'inferno! Gli aspetti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Farla con Alper. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho trovato amici migliori nei danesi, a dire il vero. Amos, non vorrei chiedere troppo, ma... Ecco, potremmo vivere con il tuo clan, Suombro, e per lei significherebbe molto. Certo che sì, saremo felici di ospitarti. Oh sì, farò la... Se combatterai con noi... Grazie, ehi... Ok, la ospitiamo. Bene, credo sia tempo di tornare da Rantvi. Le darò la buona notizia. Allora... Mi fa tempo... Abbiamo il tornio. La buona notizia. 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 E che il video si può concludere in tutora... E ci vediamo al prossimo gameplay.